Fanciulla, dico a te, alzati e cammina. È la parola di speranza, di gioia, di vita, di risurrezione che riccheggia in questa tredicesima domenica del tempo ordinario. Il brano è a capitolo quinto di San Marco, nella versione intera del brano, versetti 21-43. Cristo percorre, vive la storia degli uomini. Le situazioni più disperate, come anche belle. E allora ecco, in questa situazione ricordiamoci che sarà una situazione che lo porterà addirittura alla morte, a dare la vita per poi dare la risurrezione, la vita eterna. Prova quindi la disperazione delle persone. Il capo della sinagoga che va a chiedere la grazia, La donna è disperata per aver sperperato con i medici, non soltanto allora, ma anche oggi. Quanti soldi si sperperano? Ma per coloro che hanno la disponibilità finanziaria. Perché chi non ha la disponibilità finanziaria e si deve affidare alle prenotazioni per un accertamento clinico al sistema sanitario nazionale può anche morire nel frattempo se è una malattia terminale. Perché le prenotazioni e le code sono lunghe, mentre il sistema privato ti fa subito gli accertamenti. Ma deve avere soldi per farle. È come se lo Stato ti dicesse guarda a me, se tu muori non me ne frega niente, se hai soldi ti curi, se non hai soldi non ti curi. Ci sono tante statistiche, tante cifre allarmate di come le persone bisognose non sono più nella condizione di potersi curare, di potersi adeguamente, di potersi garantire un'assistenza sanitaria degna di tale nome. Ma Gesù interviene e supera anche l'incredulità da parte dei presenti. Non disturbare Gesù. Vedi, tuo figlio è morto. Ma Gesù entra con i genitori, opera il miracolo, la tocca per mano, questa delicatezza e questo gesto. Io dico a te, alzali, talità cummo, alzati e cammina. Verrà allora un'umanità rigenerata in cui Gesù non vuole, non accetta né la miseria né la disperazione. Allora sarà un'occasione opportuna in questa situazione di disperazione in cui viviamo anche noi perché Gesù possa operare un miracolo per ridare a noi la certezza della speranza ma anche il coraggio della rivolta. ci dobbiamo rivoltare contro il male, contro il peccato. E il primo peccato da cui ci dobbiamo liberare è quello di credere che il male, la malattia nel mondo, esistono perché lo vuole Dio e non riconosciamo invece che opera del demonio, che opera del diavolo. Ecco perché nella risurrezione della giovane ecco noi vediamo anticipata questa umanità nuova, questa umanità che attraverso la risurrezione di Gesù sarà risvegliata senza peccato e senza malattia. Ma fra la folla ci sono tre apostoli che non hanno capito, che non credono. Ecco allora il limite che dobbiamo superare, vincere, la forza della fede. Nulla è impossibile a Dio. in questa umanità che è morta perché non riconosce i diritti dei piccoli, dei deboli, dei disesperati, noi abbiamo bisogno di predicare che soltanto la fede in Cristo può operare questo cambiamento, questa rivoluzione della forza del Vangelo che può portare nella convivenza umana e perché no, anche nelle convivenze ecclesiali la vita nuova che è la vita della grazia, la vita della risurrezione. E allora ci è avuto il Signore veramente a perseverare, a presentarci a Lui, a gridare a Lui, ad avere fede. Anche solo l'ombra di Cristo che possa ecco passare, posarsi sulla donna è certezza di una guarigione. Allora questa umanità nuova che tutti desideriamo si realizzerà in ciascuno di noi e attraverso ciascuno di noi, se lo vogliamo, se perpetriamo a Cristo di accostarsi alle nostre infermità per darci la vita nuova, la vita della grazia, la vita senza fine.